Correre è ciò che faceva il Dio Ermes o Ermete, rappresentato con le ali anche ai piedi, colui che interpreta la volontà divina. Deucalione, dopo il diluvio, vede apparire proprio Ermes che gli chiede cosa vuole dagli dei. Ermes, espressione della volontà divina, corre. Il correre permette di realizzare un legame fra spazio e tempo nella massima esperienza della libertà, almeno fisicamente.